Siamo con Tommaso Tessarolo, General Manager di Current Italia. In che maniera l'Internet sta rivoluzionando l'informazione tradizionale? Beh, credo che questo è stato uno dei temi che abbiamo dibattuto oggi, che gli ultimi accadimenti che abbiamo visto da Wikileaks alla circolazione di documenti sui casi, sui scandali nazionali legati ad esempio ai fessini di Arcore, ci stiano dimostrando che ormai l'informazione non è più ingabbiabile. Quindi che la rete tramite gli strumenti digitali sia possibile ormai far circolare la vera informazione senza più limiti, senza più barriere. E questo è quello che noi stiamo cercando di fare utilizzando sempre di più i social media, quindi la nostra presenza su Twitter e su Facebook, per ingaggiare l'opinione e le informazioni che vengono dal basso, dalle persone, perché è sempre più un'informazione pulita che non venga filtrata in nessun modo e noi non abbiamo nessun motivo da interessi o di natura politica o di natura commerciale. In questo filone come si inserisce Current TV e in quale direzione andrà, visto che gli utenti fanno informazione sulla vostra televisione? Gli utenti fanno informazione in maniera diversa rispetto a come la facevano e come l'avevamo concepita dal principio. Cioè abbiamo dismesso quasi completamente la possibilità di contributi da parte degli utenti sotto forma video perché ci siamo accorti che la qualità era talmente bassa che ci mettevamo troppo tempo e troppa energia per raffinare il prodotto, per farlo funzionare in televisione, cosa fondamentale evidentemente. La partecipazione però rimane il centro delle nostre attività e quindi il pubblico fa informazione con noi perché ci segnala notizie o contribuisce poi a verificare tutto quello che facciamo. Quindi nel panorama televisivo e ma in generale dell'informazione italiana forse siamo l'unica o quasi l'unica realtà che appunto non dipendendo da nessun gruppo di potere ha il privilegio, perché oggi in Italia possiamo parlare di privilegio, di poter fare informazione indipendente. Grazie mille a Tommaso Tessaroli.